... Incidente nella mattinata di martedì 22 agosto, intorno a mezzogiorno, su strada Cicogno San Giorgio, San Giorgio Canavese. Un furgone uscito di strada si è schiantato contro il muro della chiesetta. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze della SOGIT, Croce di San Giovanni, delegazione San Giusto Canavese, e del soccorso avanzato di Caluso, nonché i carabinieri di Aglie. L'autista a soccorso dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Ibrea, non pare pericolo di vita. La strada è restata chiusa per permettere ai vigili del fuoco di stura giunti sul posto di mettere in sicurezza il mezzo, accertamente in corso da parte dei carabinieri. iscriviti al canale. Grazie a tutti